Io vi do ufficialmente il benvenuto su Halo Infinity Abbiamo appena saputo che l'infinite è scomparsa, l'anello è andato, nessuno sapeva Questa è una struttura segreta per addestrare una nuova generazione di spada Non sarà facile, ma io credo Non sono ostile, sono lui, erano a caccia Il legame neurale è corrotto, devo estrarre il chip e... No! Se lo fai morirà Ha rischiato la vita, così perderemo tutto Eklund, esattamente, cosa si è infilato lo Spartan Dean nel clave? Unia degli esiliati Non osa ingambiare il potente Eirathus! Io schiaccerò i vostri corpi e manchetterò con le viscere! Ma? Estraiamo quella cosa Come? Piano E poi mi facciamo dire tutto quello che sa Ok Ah, non è finito Esattamente, cosa si è infilato lo Spartan Dean nel clave? Unia degli esiliati La prima che vedo Un cinese! Un cinese! Non c'è niente che tu possa mostrarmi che io non abbia già visto Tranne la verità Continua di sfido Gliel'ho detto Agisci di notte Per via aerea Sarebbe stato meglio Tu dici Ma c'è molto altro da vedere Ma? Che figata è? Hai sbattuto un po' la testa secondo me fra adesso posso proseguire oltre ecco lo spirito degli Spartan delizioso però alla fine inutile oddio un po' di... tu non sai niente di persone un pochino oh mio Dio perché la verità è questa finisce sempre nello stesso identico modo morte per te il trionfo per me ma? che figata si sono 0-3 e c'è Winding vabbò ma che figata è raga ma? ok il nostro personaggio signori allora io direi che mi piace questa ma no no non va non va però mi piacerebbe questa 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 si 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 questa entri e chiudi bello direi si possono fare tipo partite esercif è tornato acquisto no come si gioca come come partita personalizzata fucina ok ecco fatto non capisco devo fare gioca è questa qua no è tipo la creativa di fornite sicuro accademia tutorial ok dai andiamo in tutorial così vediamo un po' come si gioca ragazzuoli ok caricamento ok signori il caricamento è finito vediamo un po' cosa sta succedendo scusate mi dovevo soppare il naso oddio un ragazzo una ragazza è un ammission impossibile questa che ora mi fa muovere a me soldati perché siete qui per combattere per vincere per essere uno spazio che cos'è uno spartan uno spartan cos'è uno spartan dai diccelo diccelo non ho quanto è figa la definizione lo spartan è un simbolo speranza nella disperazione tempi oscuri noi siamo la speranza oddio santo una bomba di energia quanto mi sta piacendo già questo gioco ma ho manco iniziato il trailer pensate insieme 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 siamo inarrestabili ok candidati siete pronti? si signora non riesco a sentirvi signor si signora di nuovo signor si signora io raccomando io la visuale ok tranquillo va tutto bene dopo la conia è cambiato tutto ci siamo riorganizzati capisci? ok ma ho appena saputo che l'infinity è dispersa anche l'adello nessuno sa ci stiamo avvicinando alla struttura comandante nessun segno di pericolo entriamo ma what questa è una struttura segreta per addestrare una nuova generazione di sparta contatto fra tre puoi farcela due non sarà facile uno ma io credo in te ok emmo benvenuti in paradiso è una bella giornata cielo sereno nessuna nuvola e poche probabilità di venire trovati e distrutti in un secondo cosa ti avevo detto sul fare lo spiritoso di continuare esatto vuoi restare lì in palato tutto il giorno o preferisci salvare l'umanità ok mi posso muovere io ok comandi si 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 oddio madonna quanto si salta ciao belli si può correre wow che figlia ok quindi devo tipo trovare qualcosa ciao signore vuole un po' di sushi ciao ok eeeh associevo associevole associevole vabbè allora quindi andiamo qua ragazzi buon tonno ok due occhi non mi posso più muovere attivazione attivazione maggiordomo personale disegnato saluto spatta sarebbe mio piacere servire al tuo fianco ah quindi che così così solo è tipo un nostro aiuto questa scheda qui ok ok hai ricevuto potrei personalizzare l'aspetto e la personalizzazione con la tua IA nella sala corazze una volta completato il tutorial va benissimo e impostazioni standard corazza scudo sparta ricaricato i sistemi della corazza sono pronti ora la tua IA completerà un ulteriore diagnostica dei motori collega IA collega oddio che figata tu no devo andare sotto segno il percorso sull'interfaccia sparta procederò con la calibrazione via via che avanzerà lungo il percorso ma quindi non serve passare cioè non serve lasciare premuto percorrere tipo fornit ah bello si può rubigare poi control per abbassarsi ok ciao bro che è questa roba premia per il corpo a corpo ah no F oddio sono ben fatto ok là corpo a corpo vieni qua bro ah quindi F è il pugno bello citrienne lasciando premuto sento assalti per provare una distanza maggiore ah ok mori male oddio no è mo devo ricominciare da cavo andiamo andiamo ok mi piace un bordello questo gioco ok ok ehi tu ti credi forte no non lo so mi dispiace ok andiamo pure la scivolata mi pare un fornit 2.0 un bro tipo un po' call of duty ma che bravo che bravo che sono e dai ah ma la scivolata è solo mentre si corre ok devo fare rompiti devo andare sotto si eh dov'è approfittiamo dell'occasione per equipaggiarci aha oh bello oddio ora proceda verso il poligono questo è il poligono collega io ciao bro oddio oddio la mia comandante era già qui ah mi dicono che hai avuto ottime prestazioni finora vai pure avanti ora vediamo se la tua mira è altrettanto buona ti equipaggeremo con proiettili non avere fredda familiarizza con il nuovo equipaggio guarderò dal ponte di osservazione ok allora che devo prendere cambierò il colore del mirino quando il bersaglio si trova a portata di dio sì ma ora vediamo come va quindi con R abbiamo capito che si ricava un figo ok sì sì oh rica ok ok bello dopo gli scudi in testa a posto stai fermo mamma mia vedermi senza emulizioni ma poi prendine qualcuna da quel dispenser come le granate scusa prendi bene la mira e fai fuori i bersagli come G ok con G si lanciano le granate quindi troppo porca miseria muori male non funzionano benissimo tu qua perfetta signori ops ops diciamo che non sono bravo a lanciare le granate dai diciamolo eh mannaggia i tunnel lo miro là così tunnel non gliele faccio oh a posto un'altra volta lì oh a posto direi la no 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 muori ancora no e ora ancora lì allora muori è andato male oh senti ma ti ammazzo guarda qua sopra eh non muore ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho mazzata con la granate non con il lancio cioè con la botte ok dove devo andare perfetto ripristino e in posto in posto obiettivi magari ancora qualcuno per sicurezza benvenuto nell'arena di addestramento mi dirizza con il campo e il nostro equipaggiamento prima dell'esercizio z per scansionare trovo un'arma dove la trovo ah eccola oh mia che è sta arma qui potrà trovare nuove armi all'interno di quei dispensi ok c'è un bro ah no a lui non devo sparare ah ok io che ne sapevo scusate qua cos'è grazie allora hai raccolto equipaggiamento potenziato questi oggetti rari hanno un numero di utilizzi limitati e se non li usi prima di morire possono essere raccolti dai utilizzi limitati e se non li usi prima di morire possono essere raccolti dai nemici quindi è sicurato di sfruttarli al meglio premi Q credo per usarlo fuori hai raccolto un elemento dell'equipaggiamento per equipaggiamento il numero di utilizzi limitati e il numero di utilizzi limitati e il nemici buttagli ok oh granate 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 ehi tu chi sei? hai le idee più chiare? sei pronto per qualcosa di più concreto? certo ora che abbiamo terminato la calibrazione passiamo alla prova sul campo con armi delle ok pronto sparta? certo adesso si combatte certo ok 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 andiamo si va bene la granata la granata è mia assist di eliminazione si goda la mia vita dov'è? vorrei capirla ok ne ho ucciso uno ma sono morto abbiamo finito ci sono dov'è? orco demonio morto che è successo? dai mi qua dai mi qua bella questa perché non lo sapesse? io ci giocavo ad allo il tempo fa però no 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 mannaggia voi le granate ho ucciso qualcuno? no ok non so come si gioca ora no amici no? andiamo 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 oh però stiamo vincendo 10 a 1 più di questo oh attenzione ci giocavo da da un mio amico no? che praticamente aveva l'xbox io lo cioè ci ho giocato qualche volta visto che era gratuito qua oh da ma noi e non vi calmate tutti qua e da non mi lancia la granata naggia la miseria non schifo stai me la ricordavo più forte vieni qua vieni qua com'è che non ho più granate io? oddio ma cos'è qua? io voglio le granate perchè non ne ho più? ci guardo qua oh vale ma io voglio le granate le granate dove sono le granate? mannaggia o quanti? restano 30 secondi come 30? abbiamo già vinto cioè ahhh bastardi dov'è? ok basta che è sta roba? sono morto boh io una granata gliel'ho lanciata poi andiamo andiamo ad aiutarlo eh è finito è finito è finito signore ben fatto davvero ben fatto grazie bro ho scelto bene si devo andare devi andare ok e dove vai? una parte delle nostre forze è andata dispersa cefa gli altri spartan svaniti svaniti lo stato di questo universo è mutevole per questo siamo qui per resistere per ispirare speranza per garantire stabilità oddio mamma mia che bello sto gioco oggi è stato solo l'inizio per te lavora solo quando tornerò e fidati tornerò ci sarà da fare non te ne andare ciao sorella marita non si salverà da sola spartan ci penserò io forse se mi andrà ok bello bellissimo ragazzi sto gioco già mi piace un fordello già un altro achievement tra l'altro per questo video tutorial credo che sia anche tutto esercitazione modalità quindi qua puoi puoi proprio scegliere tu diciamo tra destrazione mappa basa ok ok multiplayer raggiungi vuoi raggiungermi solte i filmati ok ecco ecco appunto qua si gioca poi ok ragazzi per questo video tutorial spero che per questo video tutorial è tutto ciao a quanto pare si stanno chat wow ok quindi sì per questo video tutorial è tutto spero che il video vi sia piaciuto come sempre lasciate un bel mi piace per supportare sia me e sia per farmi vedere che il gioco vi piace così ve lo porterò anche in futuro e quindi niente spero che il video vi sia piaciuto come sempre lasciate un bel mi piace il video è finito andate in pace ciao al prossimo video